Ciao ragazzo, oggi ho colpito un pochetto di carte pokémon e sono pronto a spacchettarli Iniziamo subito Un attimo Ok Vediamo Panasham Tierno, perchè si chiama Tierno? Cloyster Krishketam, che io ho la pre-evoluzione Espar Slowking, ragazzi, già è una delle carte rare, vedete? Poi, Lizzle Stario Che già ce li ho Omtree, che non ce l'ho Il codice E infine Valla inversa, ragazzi Valla inversa È una... penso leggendaria, non lo so Ecco No, penso leggendaria Vabbè, se lo sapete scrivete nei commenti Allora ragazzi, ci andiamo a leggere le informazioni dei pokémon Perchè io in realtà sono il pokédex, no, capito? Panasham Panasham Il pokémon Briccone C'è... ce la mette tutta per intimorire i nemici con... 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 lo sguardo... truce Ma qualcuno gli accadezza la testa e diventa un telerone Ah, ecco perchè sta ridendo Vabbè ragazzi, penso che ci andiamo a leggere solo Panasham Anzi, semmai ci andiamo a leggere in altri episodi Noi ci vediamo la prossima Ciao ragazzi Iscrivetevi al canale